Ciao a tutti, vi ritrovate nel nostro canale, benvenuti nuovi iscritti, sono contenta che siate in aumento, sono contenta che ci lasciate dei feedback bellissimi, ovviamente grazie anche per i commenti che ci fate privatamente e grazie anche perché ci avete suggerito il titolo di un altro interattivo e questo vi rende veramente molto felice perché vi possiamo accontentare. La domanda che poniamo oggi alle carte è perché c'è questo blocco fra noi? Quindi è una situazione di amicizia o sentimentale comunque che coinvolge due persone, ok? Due o più persone, nello specifico due. La stessa è stata pensata per lo più sul piano sentimentale, però proviamo ad allacciarci anche al campo delle amicizie. Quindi pensate intensamente a una persona, scegliete una fra le tre varianti, prendetevi tutto il tempo che vi necessita di pensare, quindi tra la variante della tormalina 1, del gufetto di lava e della tormalina 2. E partiamo subito. Quindi perché c'è questo blocco fra noi? Quindi andiamo subito con la prima variante e cerchiamo di capire questa persona perché è bloccata. Questa persona deve lavorare sulle sue paure, quindi perché questa persona è bloccata. Ecco qui, tre di coppe, tre di denari, sette di denari, la temperanza, ora le sistemiamo. Paggio di denari, regina di coppe, morte. Allora, perché c'è questo blocco fra di voi? Io vi dico subito che, viste le carte, la situazione è inequivocabile. Qui c'è una situazione in cui c'è un triangolo, addirittura un quadrato per molti di voi. Sistemiamo le carte in modo tale che si possano vedere tutte. Allora, non mi fanno vedere un grandissimo sentimento da parte di questa persona. Per molti di voi, visto il paggio di denari, qui potrebbe essere una di quelle situazioni che è nata da poco, o comunque non c'è stata una vera e propria frequentazione con questa persona. Quindi magari siete ancora nella fase dell'amicizia, del flirt, quelle cose un pochino più leggere. Oppure se c'è una conoscenza da diverso tempo, comunque è una di quelle situazioni che è ferma a livello di amanti. Quindi amici con benefici, diciamola così. Questa persona è una persona che ama stare libera. È una persona a cui non piace comunque avere dei limiti, avere dei recinti. Questo perché? Perché probabilmente una situazione già stabile ce l'ha. Quindi non vuole incastrarsi in un'altra situazione. Perché c'è questo blocco? Perché c'è un'altra persona di mezzo? Io da parte di questa persona, vedete qui anche mi dice che non c'è abbastanza conoscenza. Vedo che questa persona comunque non solo vuole mantenere una certa distanza da voi, perché vuole mantenersi libero o libera, ma non vi dà neanche la possibilità di farsi conoscere in profondità. Quindi potrebbe generare anche frustrazione da parte vostra. Che invece mi venite come una persona aperta, empatica, dolce, che volete andare incontro a questa persona. Quindi volete anche un qualcosa di più. Questa persona vuole mantenersi libero, ovviamente poi vedremo anche il lato amicizia. Quindi amici che avete scelto questa variante, se avete chiesto per un amico o un'amica, abbiate un attimo di pazienza. Ma se avete chiesto per la persona che vi interessa sul piano romantico, sapete che questa persona probabilmente non la conoscete bene. O la conoscenza è superficiale, quindi anche se dura da diverso tempo, siete amici con benefici. Quindi non c'è una relazione. Io vedo un triangolo qui. E vedo comunque che questa persona non vi lascia approfondire la questione, è molto sfuggente, molto ambigua. Perché? Perché comunque c'è già una situazione stabile. Anche qui questa carta dei fattori religiosi mi fa pensare che qui ci siano dei matrimoni in piedi, delle convivenze, delle relazioni ufficiali. Comunque questa persona, diciamo che questa carta mi sostituisce bene il concetto del Papa. Quindi una persona che è impegnata o in una relazione stabile già da diverso tempo e poi vi siete intrufolati voi. O comunque un'altra cosa che potrebbe anche essere che c'è una differenza tra posizioni geografiche, razze, etnie, religioni. E quindi questa persona si mantiene distante anche per questo. Quindi c'è questo pregiudizio nei vostri confronti. Quindi al di là di tutto, sul piano emotivo e sentimentale, questa persona mi sembra abbastanza bloccata perché ha delle paure a procedere nei vostri confronti. E le paure sono dettate proprio dal fatto che ha dei pregiudizi. Probabilmente ha una situazione lui stabile o lei stabile che non vuole perdere. E vuole mantenersi comunque in questo status di libertà con voi. Perché comunque, anche se è molto attratto, perché adesso andremo a vedere più o meno cosa prova, cosa pensa, cosa prova e l'evoluzione della vostra situazione, ma io qua vi dico che la persona comunque non è interessata ad approfondire la situazione con voi. Se questa persona non è impegnata, ecco, potreste essere voi la parte impegnata. Oppure potrebbe anche essere che questa persona non ha un interesse così forte nei vostri confronti. Quindi c'è quell'attrazione, vi vede come una bella persona, vi vede di bell'aspetto, ha quell'attrazione intellettuale magnetica, ma al momento non si vuole impegnare. Ora, di traumi passati qui potrebbero anche essercene, vista comunque la carta della luna nera in scorpione. Però io vi dico, le carte non mi hanno fatto emergere qui, tarocchi, una situazione di traumi passati e di paure. L'unica paura che ha questa persona, diciamo, è di incastrarsi in una relazione. Ecco, quindi questa potrebbe essere la paura di questa persona, ma visto che molti di voi poi spesso lo giustificano, la giustificano, perché è successo anche a me quando ci piace qualcuno, si cerca di giustificarlo in tutti i modi. Ma in questo caso, ragazzi e ragazze, qui non c'è nessuna scusante. Questa persona ha un'altra relazione in ballo e non vuole, diciamo, interferenze. Un'altra variante per pochi di voi è che questa persona si stia concentrando così tanto sul lavoro che al momento non è uguale a che sapere di voi. Infatti questa superficialità, ecco, emerge perché si sta concentrando molto su se stessa e sulla sua carriera. Per quanto riguarda le coppie, ok, quindi le coppie extra, in questo caso, io vedo sì che questa persona comunque ama parlare con voi, potrebbero esserci dei messaggi, però la situazione potrebbe essere ferma lì. Quindi magari ci sono dei messaggi, magari qualche incontro, qualche incontro anche sul posto di lavoro, perché no? Perché molti di voi qui in questo caso potrebbero essere tranquillamente colleghi. Quindi questa persona ha molta stima di voi, piacete tantissimo a questa persona, ma non ha quella spinta in più, un po' perché è una persona pavida, un po' perché ha questa situazione che non vuole buttare via, e quindi anche se ha una certa progettualità nei vostri confronti, comunque si blocca e si ferma, proprio perché nel mentre ha un progetto che forse dura da molto più tempo, quindi ha fatto questo investimento, voi siete arrivati dopo, e facendo un po' il bilancio dice, ok, io qui ho investito molto più tempo, molte più energie, quindi se deve scegliere, se chiudere fra voi, con voi o con l'altra parte, mette da parte un pochino poi la situazione con voi. Io qua vedo i presupposti per una bellissima storia, perché comunque c'è tanta comunicazione, voi date pace, armonia ed equilibrio a questa persona, ma non vedo che voglia sbilanciarsi, almeno per ora, quindi qui non stiamo vedendo l'evoluzione fra voi, stiamo vedendo solo che è il motivo del blocco, quindi al momento il blocco è questo, una situazione in cui ci sono di mezzo più parti. Quindi per quanto riguarda le coppie direi che è tutto. Se siete dei colleghi, ok, io vedo che questa persona magari vuole collaborare con voi, quindi vorrebbe portare un po' questo suo sentimento, perché comunque una cotta nei vostri confronti questa persona ce l'ha. Magari vuole portare tutto questo sentimento in produttività lavorativa e bloccare, e proprio uccidere quello che potrebbe germogliere fra voi. Se siete amici, quindi state chiedendo per una persona che non vi interessa sul piano romantico, allora questa persona al momento ha delle paure nei vostri confronti, ok? Potrebbero esserci di mezzo altre situazioni, altre persone, però vedo in questo caso che il blocco ha una natura diversa. Questa persona vorrebbe parlare con voi, vorrebbe esprimersi qui, la problematica potrebbe essere più da parte vostra, quindi questa persona vi percepisce sì gentile, amorevole, ma anche molto bloccata e chiusa, e quindi magari ha delle difficoltà ad esprimersi e ad esporsi, perché siete voi un pochino a castrare questa situazione. Anche qui vedo che potreste essere persone che vi siete conosciuti sul lavoro, o comunque in ambito accademico o scolastico. Vedo comunque questa situazione che, nel caso delle amicizie, potrebbe andare avanti già da diverso tempo, però ecco, in questo caso le carte mi fanno pensare che la situazione, più che legata all'altra persona, è legata a voi che state ascoltando, quindi a voi che siete i consultanti o le consultanti. Anche qui potrebbero esserci dei pregiudizi, potrebbe esserci superficialità, potrebbero esserci anche un'incomprensione di fondo. Quindi qua bisognerebbe, nel campo delle amicizie, lavorare molto sulla comunicazione, perché è la comunicazione che in qualche modo vi sta allenando. Allora, che dire? Spero che questo interattivo vi sia piaciuto, spero che vi siete ritrovati ovviamente, ricordatevi sempre che è un interattivo a tal proposito, poi farò un video che spiegherà il perché degli interattivi e come funzionano, perché ho visto che molti di voi non lo hanno ancora ben chiaro. Se ti è piaciuto il video, lasciaci un bel like, lasciaci un bel commento. Se vuoi darci anche il titolo del prossimo interattivo, noi siamo qui pronti a soddisfarti. Andiamo alla variante Gufetto, quindi benvenuta a variante Gufetto in questo interattivo. Voglio ricordarti che questo interattivo è specialmente pensato per le coppie, ma diremo qualche piccola parola anche sulle amicizie che possa aiutare. Allora, vediamo un po' perché questa situazione è bloccata, quindi esce la carta dei bambini, esce la carta dei sentimenti romantici ed esce la carta del gioco. La carta dei bambini e la carta del gioco escono spesso insieme. È tempo di agire, quindi come oracolo. E poi qua c'è il diavolo, il dieci di denari, il due di spade, le stelle. L'imperatrice, il faggio di spade e il sei di spade. Allora, partiamo con il descrivere le tipologie di variante che mi appaiono qui. Allora, perché questa situazione è bloccata? Questa situazione è bloccata per molti di voi per cose che sono avvenute in passato. Allora, questa persona vi idealizza tantissimo. Vi dico subito, partiamo un po' dai sentimenti di questa persona. Questa persona con voi è stata a Dio, è innamoratissima, ha un sentimento e un trasporto meraviglioso nei vostri confronti, la fate sentire quasi più giovane, quindi anche se siete avanti con gli anni questa persona si risente rinnovata, si sente felice. Sono sempre dei momenti di piacere con voi, soprattutto quando state insieme. questa persona riacquista energia, perché avete quella energia, quella solarità, quella bellezza, ma anche quella gioia nel vivere e di vivere, che attivano questa persona. Questa persona ha veramente bisogno di questo, perché è una persona che ha un lato oscuro, non indifferente. Ha dei vizi, potrebbe avere dei vizi, delle dipendenze. potrebbe anche avere quel lato un po' noir, potrebbe avere qualche disturbo psicologico per molti di voi, quindi prendetemi però molto con le pinze, perché queste sono questioni delicate, però potrebbe essere una di quelle persone che in passato ha sofferto da cani, ha avuto delle situazioni tossiche, da cui adesso si sta liberando. Quindi una delle motivazioni per cui qua vedo il blocco è paradossalmente che voi piacete troppo a questa persona, quindi non sa bene come comportarsi. C'è una dualità di fondo. Questa persona è molto combattuta sul come agire nei vostri confronti, perché piacete così tanto che quasi lo inibite o la inibite. C'è la vostra figura che è idealizzata. Questa persona vi ritiene la persona giusta, una combinazione bellissima, la stella con l'imperatrice. Quindi comunque siete, che voi siete donne o uomini, vi ricordo che l'interattivo è polarizzato in base alle mie energie, alle mie tendenze, quindi in questo caso vi posso dire che dall'altra parte c'è un'idealizzazione mostruosa nei vostri confronti. vi ritiene la partner o il partner giusto, la sua anima gemella. Detto questo, io comunque vedo che questa persona tende a distaccarsi. Ma perché tende a distaccarsi? Perché la situazione non si sblocca? Perché questa persona non ha il coraggio di farsi avanti. Allora, potrebbe essere che ancora sta studiando bene la situazione sul come potersi porre, proprio perché non vuole rovinare quello che c'è fra di voi, questa situazione di allegria, di gioia, di felicità. Molti di voi potrebbero essere già in una relazione perché mi esce dieci di denari, in questo caso potrebbe essere una convivenza, una relazione ufficiale, e perché no, vista l'imperatrice e la cartella dei bambini, qua potrebbero esserci anche dei figli. Quindi magari questa persona è un po' inibita, perché pensa, oddio, questa persona ha già la sua vita, ha già tutto, però caspita, quanto mi piace, vorrei assolutamente averla nella mia vita con me. Però, mentre nella variante precedente, ecco, il problema era che c'era una relazione clandestina e la persona extra, diciamo, non era abbastanza, in questo caso potrebbe esserci una relazione extra, perché visto il due di spade, il diavolo e il dieci di denari, quindi comunque potrebbe esserci la presenza di un'altra persona nella vostra coppia, quindi anche di più di una persona. In questo caso la persona non sa come direzionarsi, perché nel momento in cui viene da voi vuole avere la certezza che poi voi sarete sua o suo per sempre. Quindi si distanzia, si distacca per questo. C'è una lotta interiore nel cuore di questa persona e nella mente soprattutto. Anzitutto, vedete questa carta, sta cercando di chiarirsi le idee. Sento una fortissima attrazione nei vostri confronti. Questa persona cerca di essere il più razionale possibile, di distaccarsi, forse perché voi appunto siete impegnata o forse perché pensa che voi potreste rifiutarlo o rifiutarla. Quindi perché c'è questo blocco? Perché piacete così tanto, vi ripeto, che questa poveretta o questo poveretto non sa come agire. C'è un qualcosa di bello e di solido fra di voi già da diverso tempo o se è una situazione che è nata da poco, sappiate che voi date molta solidità a questa persona e immagina la quotidianità con voi. Questa persona probabilmente la incontrate, potreste incontrarla spesso, visto questo dieci di denari, comunque fa parte della vostra quotidianità. Potreste averla incontrata in una cerchia di amici. Potreste averla incontrata anche su internet e vista la stella e anche visto il 6 di spade. Però comunque c'è questo incontro che al di là di tutto vi ha coinvolti entrambi. Anche voi state molto idealizzando questa persona, però vi vedo molto sulla difensiva, un po' sul chi va là. vi vedo con quell'attitudine del cercare di indagare, di capire, perché voi siete molto curiosi. Vedete che questa persona vi lancia dei segnali, perché pensate caspita, ma io sto così bene con questa persona, ma questa persona cosa prova, che interesse ha e perché è tutto bloccato, perché non si muove. Ok, spero di aver risposto alla vostra questione, non si muove perché gli piacete troppo. Quindi secondo me la cosa migliore per voi sarebbe agire d'astuzia e cercare di smuovere un po' le acque. La carta della luna nuova in Ariete sta dicendo proprio questo, che siete arrivati a quel punto in cui dovete muovervi. Quindi spero che questa variante vi sia piaciuta, la variante bufetto è bellissima, sono veramente felice per voi. Per quanto riguarda l'amicizia, qui, per quanto riguarda l'amicizia, il problema potrebbe essere la gelosia. Quindi potrebbe essere una situazione che si è bloccata per via di gelosie, invidie. Anche se questa persona vi vuole un mondo di bene, ci sono stati dei batti vecchi, ecco, ci sono state delle questioni un po' irrisolte. Potrebbe essere che questa persona ha preso le distanze perché voi siete stati un po' taglienti oppure voi avete preso le distanze perché questa persona è stata un po' tagliente. Vi siete allontanati, il rapporto si è raffreddato in modo quasi naturale, spontaneo e quindi magari c'è questo blocco per questo, per un raffreddamento. Non è un blocco che vedo durare a lungo, ecco, perché questo sedi spade mi fa pensare comunque che la situazione si muoverà andrà oltre. Però ecco qui, la questione qual è? Nel campo delle amicizie mi fa pensare che ci siano degli irrisolti, ok? Quindi c'è stata un po' di tensione, un po' di quella tipica guerra fredda quando due persone la pensano diversamente, quindi ci sono delle idee contrapposte che non vengono espresse e quindi la persona un po' si può allontanare. Anche se qua, vi ripeto, la voglia di sbloccare la situazione, la voglia di muoversi c'è e tanta questa persona comunque desidera ricomunicare con voi ma il motivo del blocco ecco qui nel caso delle amicizie potrebbe essere appunto una tensione, un non dire la verità quindi potrebbero esserci delle bugie, degli inganni, quelle situazioni un po' anche della meschinità da parte dell'altro da cui voi cercate o dell'altro ovviamente da cui voi cercate di difendervi però sappiate che questa persona vi vuole davvero bene quindi il consiglio qui comunque visto le carte è di mantenersi la guardia non fidarvi completamente di questa persona anche se questa persona si sente proprio a suo agio con voi perché ci sono delle malelingue e dei pettegolezzi e quindi delle tensioni che vanno risolte quindi qua ci vuole chiarezza ci vuole chiarezza un'attitudine un po' più non dico scaltre furba però maliziosa ecco da parte vostra quindi se volete riapprozzarvi a questa persona cercate di non raccontare tutto perché qui ci sono fughe di informazioni a go go per quanto riguarda le amicizie allora che dire variante bufetto spero che l'interattivo ti sia piaciuto se ti è piaciuto lasciaci un bel like se non ti ritrovi nella variante ovviamente come diciamo sempre scegli un'altra delle pietre all'inizio del video se ti è piaciuto il video lasciaci un bel like lasciaci un commento se vuoi dici anche il titolo dell'interattivo che vorresti vedere sul canale e con questo ti saluto ciao e passiamo la terza e ultima variante quindi benvenuta terza variante voglio ripetere anche a te questo interattivo è pensato specificatamente per le coppie andremo ad affrontare brevemente anche la questione di amicizia ma si vuole concentrare di più sulle questioni coppie e andremo a vedere perché c'è questo blocco fra voi due quindi cos'è che vi sta bloccando quindi stanchi di aspettare chimica e dare una chance alla relazione e renditi al divino vediamo un po' i tarocchi che situazione ambigua stanno prospettando qua infatti l'ho dato il mago col matto l'otto di spade qui c'è molta ambività l'eremita il tre di spade allora per molti di voi questa situazione è ferma già da un po' ma non è proprio un blocco diciamo che è un blocco che ha sfociato in chiusura questo c'è un allontanamento c'è un distacco fra voi due che è molto doloroso e molto pesante io qui io qui vedo che c'è molta alchimia ok questa carta mi fa pensare comunque che c'è molta stanchezza c'è molta attesa ma questa cosa me la ripete l'eremita qui c'è stata una sorta di manipolazione anche degli eventi dei fatti allora questa persona vi ha dato l'opportunità comunque di si è dato e vi ha dato l'opportunità in qualche modo di avere dei contatti in precedenza quindi la relazione la situazione era partita abbastanza bene o comunque questo è il sentire ok della persona quindi quello che c'era fra voi inizialmente è partito alla grande successivamente la situazione si è sfreddata questa persona si è allontanata si è bloccata ed è arrivata la chiusura questa persona vorrebbe darvi un'opportunità e vorrebbe darsi un'opportunità però è bloccatissimo è chiusissimo se non c'è una chiusura fra voi due mi fa pensare che questa situazione di blocco fa male anche a questa persona fa male questa persona spesso prende le iniziative o comunque spesso ha preso le iniziative nei vostri confronti quindi cercate di capire se c'è ancora la comunicazione fra di voi ma è comunque una situazione statica ok molto statica oppure se c'è stata già una chiusura fra voi due se c'è stata una chiusura fra voi due perché la situazione adesso è ferma perché questa persona sta aspettando in realtà un passo da parte vostra se voi fate un passo questa persona comunque vi darà un'altra opportunità quindi perché la situazione è ferma se vi siete lasciati chiusi se la situazione è chiusa insomma perché questa persona sta aspettando un po' la vostra mossa e questa cosa me la fa pensare anche l'eremita che guarda tutte queste carte cioè questa persona è mentalmente bloccata non ha voglia di agire non sa neanche come agire quindi non sa come recuperare la situazione si sente bloccatissima mi sembra una persona che sa dominare le sue emozioni mi sembra una persona che sa anche aspettare quindi una persona anche paziente se deve però nello specifico contesto quindi con voi si è stancato forse perché aveva già provato più e più volte di fare questo passo verso di voi perché incredibilmente attratto e poi si è bloccato tutto o comunque voi non avete fatto capire a questa persona le vostre intenzioni potrebbe essere una variante un'altra variante è che questa persona sia venuta da voi abbia fatto quello che voleva fare quindi c'è stata questa avventura pazzesca poi si è bloccato tutto questa persona è sparita o comunque potrebbe avvenire ciclicamente che questa persona viene poi va viene poi va e voi vi state chiedendo ma perché questa situazione non evolve in qualcosa di più che questa persona sta aspettando allora in quel caso quindi se va viene va viene sappiate che questa persona con questo nemito e questo otto di spade in realtà si sta divertendo ok altre questioni probabilmente anche un matrimonio con questo mondo o una relazione stabile o comunque con qualcosa che lo trattiene e quindi con voi sta solo giocando quindi si sta dando e vi sta dando questa opportunità quindi questi incontri se li è dati più e più volte però c'è proprio stanchezza anche nelle attese quindi magari questa situazione si è bloccata anche per questo perché magari era difficoltoso incontrarvi o comunque era diventata una situazione troppo pesante per lui o lei e quindi l'ha tolta di mezzo un'altra variante potrebbe essere quindi cercate di capire ovviamente qual è la vostra io cerco di descrivere la situazione passata e poi vi dico il motivo del blocco attuale quindi un'altra situazione potrebbe essere che questa persona più volte ha cercato di farvi capire che è interessata che c'è questa alchimia che gli piacete molto che vorrebbe questa opportunità vorrebbe questa scappatella ecco perché comunque il matto mi fa pensare anche a questo però ecco è anche stanco stanca del fatto che questa situazione si sta pesantendo quindi il blocco il perché del blocco è perché c'è pesantezza nella situazione sostanzialmente un'altra variante ancora potrebbe essere che questa situazione è in effetti bloccata da ambo le parti quindi non c'è stata una vera e propria chiusura quindi questa persona è ancora presente nella vostra vita questa situazione sta già durando da diverso tempo di blocco ok questa persona sta riflettendo sul da farsi nel mentre sta facendo un grande cammino interiore quindi tutta questa situazione sta portando ad un'evoluzione della persona per cui avete chiesto probabilmente sta pensando di fare un passo però poi ogni volta che lo pensa si blocca e resta tutto fermo e aspetta che sia il caso a fare la prima a far succedere qualcosa o che siate voi a fare la prima mossa in ogni caso questa persona spera che ci sia un incastrarsi di avvenimenti se comunque vi state ancora frequentando che arrivi che in qualche modo vi porti a ricongiungervi un po' di passi vostri perché comunque questa persona è anche stanca di farsi sempre avanti di farvi capire che è interessata quindi potrebbe esserci anche che stia aspettando che sia il destino un po' a muovere le fila della vostra relazione in ogni caso questa persona che si sia allontanata che sia una situazione chiusa che sia un ex o comunque una persona con cui vi state frequentando attualmente quindi potrebbe essere un amico un collega un conoscente ok in ogni caso questa persona un'altra opportunità la vostra relazione o la vostra situazione la darebbe vi ripeto se questa situazione si è chiusa in passato perché questa persona era già impegnata io vi dico che l'occasione che vi darebbe non sarebbe di una relazione seria ma comunque sempre di un qualcosa di leggero ed effimero diversamente se questa persona è nella vostra vita ancora quindi non è una situazione chiusa e vi posso dire che questa persona ha difficoltà a muoversi perché vorrebbe fare un passo concreto ma allo stesso tempo no quindi potrebbe nel senso mi spiego meglio ho detto un qualcosa che forse è poco chiaro questa persona vorrebbe fare un passo avanti verso di voi però allo stesso tempo è veramente molto bloccata ha molte paure magari ha già fatto diversi passi vi ha fatto capire diverse volte poi allo stesso tempo è una persona estremamente introversa quindi ha difficoltà ad esprimere ciò che è dentro ha molte turbe mentali si dà prima lo slancio e poi si tira indietro perché ha paura ha paura di ferirsi è molto sofferente quindi questa è la situazione che mi prospettano le carte se state chiedendo per un'amicizia allora qui qui vi posso dire che l'altra parte è abbastanza sofferente c'è questo blocco perché questa persona si è focalizzata si è centrata su un qualcosa che è avvenuto che magari è stata una leggerezza o comunque si aspettava da voi un'azione un qualcosa che poi non è arrivata io vi posso dire che anche in questo caso le vedo palesi più che mai altre persone che hanno interferito in questa situazione e che hanno portato questa persona poi a staccarsi da voi quindi in questo caso potrebbero esserci di mezzo delle persone che in modo abbastanza sudolo vengono allontanati da questa persona questa persona in qualche modo sta cercando di capire dove stia la verità quindi se sta da voi o dagli altri quindi il blocco potrebbe essere anche per questo io vi dico che in questo caso penso che siate stati voi a prendere la decisione di allontanarvi anche per cercare di capire se potete fidarvi o no di questa persona probabilmente vi ripeto questa persona non sa come muovervi poi probabilmente l'avete anche bloccata o le avete detto di non farsi sentire più questa persona vi sta attendendo già da diverso tempo e vi posso dire comunque che non dovete aspettarvi grandi passi da parte dell'altra persona se si parla di un'amicizia perché in questo caso ha sofferto anche dall'altra parte quindi queste cose che si sono intromesse fra di voi queste terze parti che si sono intromesse fra di voi in realtà hanno fatto male più all'altra persona che a voi da parte vostra vedo sì della rabbia ma da parte di questa persona vedo proprio una chiusura vedo proprio tanta sofferenza quindi questo è per quanto riguarda brevemente le amicizie anche in questo caso vi posso dire che questa persona sta aspettando che il destino in qualche modo faccia un passo nei vostri confronti forse qui è passato veramente a diverso tempo le motivazioni vi ripeto qui sono state futili ci sono stati solo delle gelosie o comunque di altre persone però in questo caso e quindi c'è stato questo allontanamento quindi la motivazione qui è questa io vi ripeto quella persona è stata c'è stata magari un'azione da parte vostra che ha ferito questa persona magari questa persona vi ha ritenuto ciechi o cieche nel senso ha detto ma com'è possibile che si sia comportata in questo modo in più ci sono state delle zizzanie quindi parte del vostro atteggiamento parte di zizzanie del resto dell'accomitivo di altre persone che stavano vicino a questa persona l'hanno fatta allontanare fra di voi da voi scusate allora che dire variante numero 3 io spero che il video ti sia piaciuto spero di essere stata esaustiva se il video ti è piaciuto lasciaci un bel like ti invito a scriverci se ti va tra i commenti la tua storia e di raccontare il tuo vissuto il tuo trascorso con la persona che hai pensato qui e se ti va di lasciarci anche il titolo per il prossimo interattivo perché noi saremo contentissimi di soddisfare le vostre richieste con questo vi saluto vi mando un abbraccio e vi aspetto al prossimo video ciao ciao